Nel pomeriggio della festa dell'Epifania Papa Francesco ha visitato la parrocchia romana di Sant'Alfonso degli Guori dove lo hanno atteso centinaia di persone. Il Santo Padre ha visitato il presepe vivente organizzato dai fedeli della parrocchia con circa 200 figuranti. Iniziamo l'anno con Gesù, ha detto il Papa. Gesù rimane con noi e vince il male e preghiamo, preghiamo per tutti, soprattutto per i bambini che nasceranno e per i nonni che sono la saggezza. Il Papa ha voluto poi visitare subito sia la chiesa che il presepe vivente, collocato accanto ad essa, dove è stata ricostruita una piccola betlemme con botteghe che ricordano i mestieri tipici dell'epoca, falegnami, calzolai e fabbri.